Durante una conferenza stampa attenuta sul mone gli uffici del comando della polizia locale è stato presentato il convegno nazionale della polizia locale giunto ormai alla diciottesima edizione. Si tratta di autentiche giornate di studio volte a migliorare la preparazione professionale di tutti gli addetti alla polizia. Oggi il corpo della polizia locale viene chiamato a crescenti nuovi impegni e competenze oltre ad una costante vigilanza sul territorio. Purtroppo la generale crisi economico che attanaglia anche il nostro Paese porta a riduzione di risorse che pure sono necessarie per assolvere ad un compito difficile spesso sottovalutato dalla politica. Continui leggi e decreti scaricano sulla polizia locale nuovi impegni e nuove competenze. Spending review ed il riordino istituzionale del territorio. Quali prospettive per la polizia locale? Questo è il tema del convegno che si terrà nei giorni 22 e 23 marzo nella sala congressi dell'Europa Parco Hotel. Michele Sabatini, direttore del convegno, vicepresidente nazionale dell'AMBU e Carmine Di Berardino, segretario generale dell'associazione, hanno illustrato gli aspetti fondamentali del convegno, sottolineando la valenza dei relatori che rendono importanti e proficue le due giornate di studi per il miglioramento delle qualità professionali degli addetti alla polizia locale. Sono previsti arrivi di molti colleghi da tutta l'Italia. Il comandante della polizia locale di Sulmona, Maggiore Antonio Litigante, ha sottolineato l'impegno attuale dei corpi di polizia locale, ricordando gli impegni che il corpo di polizia locale ha svolto proficuamente a Sulmona.